Grazie, un saluto a tutti i presenti, un ringraziamento all'archivio di Stato che ci ospita e un saluto all'amico Masini con il quale abbiamo fatto un ottimo lavoro in fase di emergenza. Purtroppo loro sono stati per non tanti giorni ma abbiamo lavorato benissimo insieme. Io, a parte il fatto che sono anche io ingegnere, e qua mi pare che ci sono un sacco di ingegneri oggi, vorrei fare un discorso di carattere un po' più generale e non di dettaglio. Personalmente sono responsabile dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede dell'Aquila. Prima, finché è esistito, del Gruppo Nazionale di Difesa Terremoti, sempre dell'Aquila. Il personale del mio ufficio si occupa di terremoti e di rischio simbito in generale dal 1984, sono quasi 30 anni. Quindi abbiamo una grande esperienza in questo settore che ci deriva proprio dalla pratica, non necessariamente dalle nostre singole capacità. Qui vedete un elenco degli eventi a cui abbiamo partecipato, sia in fase di emergenza che in fase di ricostruzione. Non siamo intervenuti solo nella fase di emergenza, ma anche nell'impostazione e spesso nella gestione della fase di ricostruzione. Questo è avvenuto nel 1984, dove siamo stati proprio responsabili per l'Abruzzo della ricostruzione del terremoto dell'Italia centrale, terremoto del Parco Nazionale di Abruzzo. È successo nel 1985, non tutti se lo ricordano, ci fu un piccolo terremoto qui all'Aquila, l'Aquila, l'Aquila, l'Aquila e l'Aquila che torna in parte. Nel 1997 siamo, anzi personalmente, stanno ancora nel comitato tecnico-scientifico del terremoto delle Marche. Siamo intervenuti poi a tutto campo nel terremoto del Molise, che pochi ricordano se non per il tragico evento del crollo della scuola di San Juliano. E adesso, diciamo, poi il terremoto ci ha fatto a casa, perché noi siamo aquilani e quindi siamo doppiamente coinvolti in questo evento. Mi interessa intanto ricordare alcune cose, perché qualcuno all'inizio ha parlato di memoria storica e secondo me è bene ricordare alcune cose. Molto rapidamente. Allora, nel 1995, qui all'Aquila fu presentata una ricerca, è quella che vedete sulla sinistra, rischio sismico di edifici pubblici, realizzata dalla Regione Abruzzo in collaborazione col Gruppo Nazionale di Difesa Terremoti, presentata dall'allora sottosegretario Franco Barberi alla Protezione Civile, la sua prima uscita come sottosegretario. In questo lavoro erano stati censiti tutti gli edifici pubblici e strategici in miniatura della Regione Abruzzo alle zone a rischio sismico, con una gradatoria di vulnerabilità. Ai primi posti di questa gradatoria figuravano tutti gli edifici che sono o crollati o sono stati più danneggiati nel terremoto del 2009. Stiamo parlando dal 1995 al 2009, di 14 anni fa. Nessuno ha fatto nulla. Tra l'altro questo studio non era uno studio, perché questo lavoro fu approvato dall'Aggiunta regionale di Abruzzo, inviato formalmente a tutti gli enti proprietari degli immobili e non è stato fatto nulla. Successivamente, questo è molto più ben conosciuto da tutti quanti, c'è stato il rapporto Barberi, nel quale abbiamo lavorato direttamente, ci sono stati i rapporti Barberi, perché il rapporto Barberi, uno ha riguardato gli edifici pubblici, quello che tutti ormai conoscono, ce n'è stato però un altro che ha riguardato i beni culturali, i beni storico-architettonici all'interno dei parchi naturali dell'Italia meridionale. Non è stato un caso che quello studio sia stato fatto all'interno dei parchi, perché pochi anche qua sanno che la legge quadro nazionale sulle aree protette, la 394, al primo punto tra gli interventi favoriti all'interno dei parchi nazionali e regionali sono il recupero e il restauro dei centri storici e dei beni storico-architettonici. Questa, secondo me, fortunata combinazione non è mai stata, tra virgolette, sfruttata per fare un progetto strategico sui beni culturali, né nei parchi né a livello nazionale, che è quello che manca, perché qua, diciamo la verità, a mio avviso, in questo settore c'è una grossissima dispezione di fondi, cioè non esiste un progetto strategico, non esiste un coordinamento a livello nazionale, che non è facile perché, diciamo, siamo di fronte a un numero di beni storico-architettonici, come ben sapete, altissimo. Solo in questa ricerca di beni storico-architettonici di cui ho parlato, che era appunto parziale, abbiamo incensito quasi 18.000 beni sul territorio, direttamente sul campo, quando, per esempio, la carta del rischio, la prima versione della carta del rischio, a quell'epoca, per esempio, solo per le chiese, per le chiese, diciamo, il nostro lavoro ha contato il 450% in più di chiese di quelle che erano presenti nella carta del rischio, prima versione, del Ministero dei Beni Culturali. Nel terremoto Umbria Marche abbiamo lavorato anche qua direttamente, sia in fase di emergenza, tra l'altro questo lavoro che vedete qui è una delle pubblicazioni che abbiamo fatto, che abbiamo fatto proprio insieme all'Università dell'Aquila, al compianto professor Beolchini, che mi piace qua ricordare. Dall'esperienza del terremoto Umbria Marche sono nate due strumenti fondamentali. Il manuale per la gestione tecnica dell'emergenza, predisposto dal Servizio Sismico Nazionale con la nostra collaborazione, che fu approvato dalla Commissione Grandi Rischi e che ancora oggi quindi è il riferimento per la gestione tecnica dell'emergenza. E la scheda di agibilità, di primo e secondo livello, per la rivelazione dell'agibilità e il danno degli edifici che è stata utilizzata anche in questo terremoto, in maniera secondo me poi impropria, perché una del, qua apro una parentesi, la madre di tutte le disgrazie di questo terremoto è stata aver agganciato i finanziamenti agli esiti della scheda di agibilità, che non c'ha nessuno, per chi ne sa qualche cosa, non ha alcun senso. Dal lavoro fatto con i progetti, i rapporti barbari, diciamo quell'indagine sui beni storici architettonici dell'Italia meridionale, già all'epoca erano state messe in piedi, tra l'altro anche con la collaborazione della dottoressa Antonella Recchia, una serie di schede di rilevamento sulle chiese, sui palazzi, sulle torri, sui centri storici, su tutte le varie tipologie dei beni storici architettonici. Alcune di queste sono state poi ufficializzate da una commissione, chi lavora alla MIBAC lo sa bene, in particolare quella che riguarda le chiese e quella che riguarda i palazzi. L'aspetto negativo di questo rilievo in questo terremoto è stato che queste schede che sono pubblicate sulla gazzetta ufficiale e quindi sono, diciamo, ufficiali, e che sono, diciamo, la scheda palazzi veniva testata per la prima volta e a mio avviso è una scheda che va rivista completamente perché si è rivelata poco efficace. Quella sulle chiese anche essa è stata efficace fino a un certo punto perché nel frattempo era già stata elaborata una versione successiva molto più approfondita ed efficace che era stata utilizzata già nel terremoto del Molise del 2002. In questo terremoto avevamo utilizzato questa scheda per censire tutte le chiese danneggiate dal terremoto del Molise, nella provincia di Campobasso, oltre 600 chiese. A seguito di questo censimento siamo riusciti a fare una stima dei costi molto attendibile, a fare una gradatoria di priorità, un programma pluriennale di interventi che è partito quasi subito. Le linee guida di intervento che abbiamo fatto insieme, anche in collaborazione, col professor Lago Marzino e col professor Potestà che hanno anticipato pubblicare sulla gazzetta ufficiale della regione Molise che hanno anticipato di sei mesi la prima versione delle linee guida per gli interventi sugli edifici di interesse storico architettorico nelle zone a rischio sismico. Questa esperienza è stata completamente dimenticata in questo terremoto dell'Aquila come anche altre, devo dire. A valle di questo lavoro poi abbiamo fatto due pubblicazioni, una proprio su beni monumentali e terremoto dall'emergenza della ricostruzione e un'altra raccogliendo tutti gli strumenti di rilievo, danno e vulnerabilità sismica dei beni culturali. L'abbiamo fatta sempre in Molise, però hanno un uso a livello generale. Come ben sapete, perché insisto sul fatto che manca un progetto strategico sui beni culturali in Italia e non solo, ma in particolare sui beni culturali, perché sapete bene, intanto bisogna dire che ogni 6-8 anni in Italia c'è un terremoto di notevole energia, questa è la media, 6-8 anni. Dato che il pariposio storico architettonico è il più vulnerabile tra i manufatti costruiti, e capite bene che se non si fa una strategia seria di prevenzione, noi ogni 6-8 anni staremo a piangere sulle macerie, come avviene da sempre. Questa è una diapositiva che risale, non so, forse a 30 anni fa, ma continua a far vedere, perché ancora oggi si fa una grossa confusione tra rischio sismico, pericolosità, vulnerabilità e così via, quindi io la ripropongo ogni volta per ricordare che il rischio sismico, e questo vale anche per gli altri rischi, per la verità, è l'insieme di una serie di componenti, ma per ridurre il rischio sismico, e questo è l'obiettivo, dovrebbe essere l'obiettivo prioritario, l'unico fattore sul quale si può intervenire concretamente è la vulnerabilità, la riduzione e la vulnerabilità. Gli altri fattori hanno un peso, diciamo, insignificante, nel senso che la pericolosità è quella che è e ce la teniamo, l'esposizione, lì qualcosa si può fare, esposizione o valore, nel senso che luoghi troppo, edifici troppo affollati, come alcune scuole, si potrebbe pensare a un trasferimento, insomma, in termini pratici si intiene poco, stessa cosa per gli effetti sismici locali, adesso qua c'è il terrore di che cosa facciamo per la zona interessata alla faglia tra Paganica e San Gregorio, perché c'è la faglia, si può ricostruire, non si può ricostruire, secondo me si può ricostruire benissimo, tant'è che se uno si fa una passeggiata sulla faglia da Paganica a San Gregorio trova edifici molto danneggiati e trova moltissimi edifici che non ci hanno avuto alcun danno, quindi voglio dire, specialmente in Italia dove non ci sono terremoti di energia eccezionale come in altri paesi, è una discussione che lascia il tempo che trova, tra l'altro non esiste neanche a livello nazionale una normativa che dica come comportarsi nei confronti della presenza di una faglia, esiste solo in Nuova Zelanda che stabilisce una fascia di un tot numero di metri dalla faglia per edificare, solo in Nuova Zelanda esiste, negli altri paesi non esiste, quindi l'unico strumento, l'unico fattore sul quale intervenire per ridurre il rischio sismico è la riduzione della vulnerabilità. Questa è un'altra immagine storica, io la chiamo, perché viene da un organismo dell'ONU. Innanzitutto ci dice alcune cose essenziali, la prima è che non esistono catastrofi naturali, qua si parla sempre di catastrofi naturali, esistono eventi naturali, questi eventi si trasformano in calamità quando incontrano condizioni vulnerabili del territorio o dell'edificato e spesso queste condizioni vulnerabili, anzi spesso, quasi sempre, sono determinate dall'uomo. Faccio un esempio banalissimo che capiscono tutti, la maggior parte delle aree industriali italiane sono costruite all'interno di aree ben note di esondazione dei corsi d'acqua, che si allagano regolarmente. Poi ha il disastro naturale e se uno costruisce dentro le aree di esondazione dei fiumi mi pare evidente. Questo diagramma ciclofasi ci vuole dire che ci vuole far capire i corsi e ricorsi storici, nel momento in cui si verifica un evento c'è la fase dell'emergenza, poi c'è la fase della ricostruzione, quella della riduzione del rischio è quella della preparazione all'emergenza. La fase della ricostruzione innanzitutto diciamo che è anche una grossa operazione di prevenzione nei confronti dei futuri eventi sismici. L'errore di fondo che ancora oggi si fa è di considerare tutte queste fasi come assestanti, cioè l'emergenza e l'emergenza, la ricostruzione e la ricostruzione, la prevenzione e la prevenzione. Non è così, perché qualsiasi cosa si fa in una di queste fasi, condiziona, qualsiasi azione condiziona nel bene o nel male, quindi positivamente o negativamente, quello che si potrà fare nella fase successiva ed è condizionata dalla fase precedente. Quindi se non si vede questo problema nel suo quadro complessivo e nelle sue implicazioni si commettano gravi errori. Cioè se si imposta male, si gestisce male l'emergenza, diventa molto difficile gestire bene la ricostruzione e così via. Questo diagramma ciclofasi lo faccio vedere anche per ricordare che secondo me bisogna sempre ragionare per livelli di conoscenza, cioè bisogna vedere quali sono gli obiettivi. di fronte a un'operazione, diciamo, a un fenomeno come quello che c'è stato qui ad Aguila, di un danno così esteso e diffuso, dobbiamo ragionare in prima fase su larga scala. Quindi il livello di conoscenza, nella prima battuta, sarà basso. Poi a mano a mano si può affinare. Quindi in funzione dell'obiettivo ci sarà un diverso livello di conoscenza che noi possiamo utilizzare per poi intervenire. La cosa importante è che qualsiasi sia il livello di conoscenza basso o molto approfondito, queste operazioni, questi quadri di conoscenza servono comunque ad assumere delle decisioni. Questa è la cosa essenziale. a tutti i livelli. Anche perché bisogna sempre fare un ragionamento costi-benefici, soprattutto in un periodo come questo, chiamiamolo così, di vacche magre. Qui ad Aguila non si riescono a definire le priorità di intervento del centro storico. Non ci sono neanche priorità all'interno degli interventi sui beni culturali. Cosa che si potrebbe e si dovrebbe fare. Ricordo che in fase di emergenza noi abbiamo lavorato molto con il vice commissario Marchetti, anche su moltissime messe in sicurezza. Abbiamo fatto 60 anni di messe in sicurezza insieme anche ai colleghi della sovrintendenza, del MIBAC e così via. È stata fatta un database sui danni del patrimonio storico architettonico. Manca secondo me, questo lo sa bene anche Magani, lo sa la Curia, lo sa anche la dottoressa Recchia perché è stata informata di queste cose, manca la fase successiva. Cioè quell'approfondimento che è stato fatto in Molise per consentire di avere stime dei costi realistiche e fare delle gradatorie di priorità di intervento. Perché purtroppo sappiamo bene che le stime fatte nella fase di emergenza sono molto approssimative e non possono essere quelle in riferimento per dare finanziamenti per il recupero dei beni storico architettonici. Questa che vedete è un'altra immagine che riguarda questo ragionamento sui livelli di conoscenza che era stata messa a punto proprio a valle del lavoro sull'indagine sui beni storico architettonici dell'Italia meridionale e qua come vedete appare anche la scheda muratura. Anche la scheda muratura è uno strumento che nasce nell'ambito di quel progetto con la collaborazione della professoressa Binda e poi viene sviluppato nel corso degli anni. Perché faccio vedere questa immagine? Perché ripeto sempre, insisto, bisogna cercare di avere il quadro complessivo dei problemi a tutti i livelli per arrivare a fare un progetto strategico. Altrimenti in Italia, ma non solo per i beni culturali, si interviene sempre per spot. Secondo noi invece bisognerebbe ribaltare l'impostazione secondo la quale data un certo canale di finanziamento, allora bisogna inventarsi qualche progetto per prendere quel finanziamento. No, dovrebbe essere il contrario, bisognerebbe fare un progetto organico e poi trovare i vari canali di finanziamento che siano utili a finanziare e a realizzare quel progetto. vado di corsa perché ho già preso troppo tempo. Un altro accenno alla prevenzione, noi abbiamo fatto operazioni di studi di prevenzione anche sui centri storici, cosiddetti erroneamente minori. Questo è uno dei centri storici del Matese, in Molise, di Rocca Mondolfi, dove abbiamo fatto anche vari scenari di danno in funzione dei possibili terremoti attesi, perché era la zona considerata più alto rischio del Molise, poi il terremoto non ha fatto nel Matese, ma ha fatto in un altro posto, ma purtroppo questo non dipende da noi. Qua vedete rapidamente un po' dell'attività che abbiamo svolto nella fase di emergenza nel settore del bene culturale, abbiamo fatto anche un sito apposta sul terremoto dove abbiamo cercato di raccogliere più informazioni possibili, tutti i vari casi di studio che sono stati fatti anche dall'università, oltre che da noi. Questi sono alcuni dei primissimi interventi di messa in sicurezza fatti dopo il terremoto, questo riguarda la chiesa di San Pietro di Rocca di Cambio che è stato fatto insieme ai Vigili del Fuoco, quello di sopra è la chiesa di San Pietro e sotto Santa Lucia di Rocca di Cambio, quello di sopra è stato fatto una settimana dopo il terremoto, insomma, con le squadre SAF dei Vigili che sono, devo dire, bravissimi. Anche qua devo fare, ecco, questo mi ricollega un po' degli interventi fatti prima, questi sono gli affreschi della chiesa di Santa Lucia di Rocca di Cambio, una delle termografie l'hanno fatta anche i colleghi del Liban. La cosa da dire è che poi abbiamo fatto una termografia un po' più approfondita che è servita al restauratore per studiare come operare per la velinatura dell'affresco per evitare che si staccasse completamente, alcune parti erano crollate, sono state poi tutte classificate e così via, sono ancora conservate, ci siamo occupati pure del recupero dei beni mobili insieme a Carabiniere e Vigili del Fuoco, insomma abbiamo fatto un po' di tutto. Concludo parlando un po' dell'Aquila, sull'Aquila è stato messo in piedi insieme al Vice Commissario Marchetti, era partita, poi questa cosa non è andata avanti ma si può riprendere, un GIS sui beni culturali. L'idea adesso qual è? Con le nuove procedure che si stanno mettendo in piedi adesso dopo l'entrata del governo Monti l'anno scorso e con l'incarico del Ministro Barca, l'idea sarebbe quella di costruire una banca dati unica per la gestione del terremoto, perché esistono la bellezza di 16 banche dati, abbiamo scoperto, qualcuno ce l'abbiamo noi, che non dialogano tra di loro, quindi pensate quanto tempo e quante risorse sono state perse, quindi esistono 16 banche dati che messi insieme consentirebbero di avere un quadro complessivo della situazione del terremoto, del post terremoto dell'Aquila e consentirebbero di fare quella programmazione di cui parlava Magani che non si riesce a fare tra l'altro, perché se uno non ha le informazioni, non ha dati precisi, non ha contezza della reale situazione, come fa a programmare la ricostruzione o come fa a pensare o anche avere delle idee, quasi parla tanto di Smart Cities, il progetto dell'Ox e così via, sono chiacchiere perché se non sono supportate da conoscenze del tipo che vi sto descrivendo lasciano il tempo che trovano, quindi faccio vedere due ultime immagini, questa è quella del contatto dell'Aquila per ricordare che il terremoto non ha colpito solo l'Aquila ma ha colpito oltre 200 centri storici e di questi centri storici ce ne sono pochi che hanno una condizione di danno come il terremoto dell'Irpiglia, diciamo distrutti completamente, la maggior parte hanno una condizione di danno tipo Umbria Marche e quindi sui quali si poteva intervenire anche subito senza fare i piani di ricostruzione che secondo me il 99% dei casi non servono a niente ma hanno fatto perdere solo tempo e la centralità della città diciamo col suo territorio che tra l'altro ha avuto un danno sul cemento armato che non aveva mai avuto prima, quindi il terremoto dell'Aquila è come se fossero quattro terremoti insieme, centri storici con diverso grado di danneggiamento, Irpinia, Umbria, il centro storico dell'Aquila del terremoto di Messina, c'è un terremoto che danneggia la capitale regionale di questo tipo e un gravissimo danno sul cemento armato, non c'era mai stato negli altri terremoti, il terremoto delle Marche Umbria sono stati 10 gli edifici in cemento armato danneggiati. siccome devo andare via, però devo dire due cose importanti, una per quanto riguarda gli interventi di recupero e restauro, questo è un test che abbiamo fatto in Molise su un grande numero di progetti dal quale si vede che è importantissima la sequenza degli interventi che si fanno su un edificio, cioè ci sono degli interventi che hanno un rapporto costi-benefici altissimo, tipo le catene, per fare un esempio banale, altri tipo il consolidamento delle murature che hanno un rapporto costi-benefici assolutamente non conveniente, per cui la sequenza degli interventi è importantissima, cioè ci sono interventi che con poca spesa riducono moltissima la vulnerabilità. Si arriva a un certo punto sulle murature dove per ridurre la vulnerabilità di uno bisogna spendere 100, a quel punto è inutile andare avanti, insomma, e questo non è che lo dicono le norme, però le linee guida del Ministero andrebbero un po' più seguite dai progettisti che mi sembra che non ne tengano molto conto, tant'è che ho visto interventi, insomma ho visto la riproposizione, ricordo l'incemento armato pesanti e così via anche su edifici vincolati. Chiudo con questa immagine che risale a una circolata del 1882, questo per dire che poi non inventiamo mai nulla, insomma, spesso facciamo la scoperta dell'obrello e troviamo delle indicazioni molto precise anche più di un secolo, che risalgono più di un secolo fa. Grazie. Grazie mille. Grazie.